Amen! Sì carissimi! Diamo tempo un po' alle testimonianze per vedere che Dio esiste realmente perché è una cosa che una persona non può fare ma Dio è capace a farlo Lui è il nostro Signore ora ti invito ancora ad alzarti per rinalzare il Re dei Re perché sei davanti al Santo sei davanti al Santo ti ha dato la vita questa mattina che molti non sono riusciti a svegliarsi stamattina ma tu hai avuto la vita ora cosa vuoi dirgli? Soltanto grazie e sappiamo che le collette che noi paghiamo ma il suo di vita lo riceviamo gratuitamente basta che tu gli dica grazie perché mi hai dato la vita Signore Dì Signore tu sei buono e io ti ringrazio Signore perché fai delle cose nella mia vita e nessuno può fare perciò che io dico che tu sei i Re che tu sei Signore ricevi la gioia di questo mattina e ricevi la gioia di questo mattina e ricevi la gioia di questo mattina e ricevi il Padre questa mattina bene o nome di Presidente io e Grazie a tutti.